Sostenere le imprese in difficoltà Le qualità sono state illustrate nel corso di un convegno dal Presidente di Confcommercio Campania Maurizio Maddaloni, dal Direttore Commerciale della Campania di Unicredit Banca di Roma Pierpaolo Tempestini, dal Direttore Generale di Confidi Piccole e Medie Imprese Lucio Donaddio e da Giorgio Nocerino con Direttore Commerciale Piccole Imprese Campania di Unicredit Banca di Roma. Grazie Grazie Grazie